Guarda qua, schiena indietro, resisti, schiena indietro, guarda qua, non guarda la vela, fai entrare un po' di potenza, poca poca e vieni qua, albero un po' indietro, vedi che sta arrivando qua? Dai che arrivi qua, sorridi, perché non sei scherzi a parte, è anche un video questo, bravo.